Vedete Dino, Dino aveva 40 anni, non gli potevi chiedere di fare mezz'ora o 15-20 minuti di corsa di parto atletica. Io parto come la riserva della riserva, perché la riserva dei difensori era Pietro Bjarkevold, ma Pietro arriva in ritiro ad Alassio con una caviglia gonfia. Allora Bjarzotti veniva da me e mi dice guarda che in panchina vieni tu e sei la riserva di tutti i difensori. Servaggio nel ritiro di Alassio si è presentato senza scarpini, è come se un pittore va a lavorare e non si porta lennelli. Le scarpe qui non ce le aveva, ma chi te le date poi? Me ne ha prestato Caprini, se ne aveva lo stesso, io c'ho 39, non è che c'ho un gran piedone, insomma ho dovuto iniziare gli allenamenti con quello. Il selvaggio nel gruppo è servito, ci ha dato una grossa mano con la sua gioia, con la sua simpatia. E soprattutto grandissimo giocatore di ping pong, ti ricordi le partite? Ci divertivamo in tutti i modi, a ping pong, a calcetto, a carte. Ciccio Graziani credo che cantava perché era il giocatore che ci alliettava con le sue canzoni.